Ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy. Oggi finalmente parliamo di PNRR, oppure meglio detto anche Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Redatto dal governo Draghi, con l'aiuto anche del governo Conte, ma lì poi ci arriveremo, e presentato alla Commissione Europea il 30 aprile scorso. Su questo tema, qui sul canale, ci siamo passati parecchie volte, addirittura 8 video in un anno di tempo, e percorrono praticamente tutta l'evoluzione del piano con anche relative difficoltà, ad esempio da parte dei paesi di Visagrad. Vi consiglio di andare a recuperare tutti questi video tramite la playlist che troverete in descrizione o anche qui sopra, non ho mai capito dove sta. Detto ciò, per chi è stato assente oppure per i nuovi del canale, cerchiamo di fare un brevissimo recap, sempre consigliandovi di andare a recuperare la playlist e poi andare a vedere un po' come funziona il PNRR di Draghi, fare dei paragoni con quello di Conte, perché lo so, questo mi interessa e forse mi potrò stupire, e poi vedere un po' di implicazioni economiche e di difficoltà che potrebbero essere affrontate a causa di questo piano. Tutto ciò in questo video. Iniziamo! La possibilità che la Commissione Europea possa finanziarsi autonomamente arriva dalla Francia e dalla Germania attraverso una proposta intorno al maggio del 2020. Una settimana dopo la Commissione Europea ufficializza questa proposta per poi aspettare luglio 2020 durante un Consiglio Europeo in il quale l'Europa decide effettivamente che la Commissione Europea si potrà finanziare sui mercati finanziari per poter spendere queste risorse all'interno dell'economia. E spiego all'interno del video in cui appunto mi rifaceva questa notizia del fatto che fosse un evento molto importante, in quanto l'Europa cercava questa possibilità da parte della Commissione Europea addirittura dal 1966. Quindi da quest'anno e fino al 2026 la Commissione Europea si indebiterà nei mercati finanziari per un ammontare di 750 miliardi, ad un passo all'incirca di 150 miliardi all'anno, e appunto assumerà dei prestiti che dovrà ripagare fino al 2058. Questi soldi quindi presi dai mercati finanziari verranno redistribuiti all'interno dei paesi europei secondo determinati parametri. Una parte di questi soldi verranno dati agli stati tramite sovvenzioni, e quindi gli stati non avranno l'obbligo di restituire indietro i soldi alla Commissione Europea, mentre un'altra parte di questi soldi verrà concessa tramite dei prestiti. Quindi gli stati dovranno ridare questi soldi alla Commissione Europea con un tasso di interesse. Il vantaggio è che questo tasso di interesse sarà molto basso, in quanto la Commissione Europea è molto forte nei mercati finanziari e quindi riesce a indebitarsi con un tasso di interesse molto molto basso. Per finanziare queste spese e quindi per coprire essenzialmente la parte di sovvenzioni, l'Europa potrebbe inserire in futuro delle tasse, però ancora non è ben chiaro come e quali tasse saranno. Ci sono solo delle idee in campo. L'obiettivo di tutta questa politica che prende il nome di Next Generation EU è quella di creare un'economia che guarda verso il futuro, come ci dice il nome stesso, e quindi un'economia fondata sulla digitalizzazione e sull'economia verde, in modo tale da dare ai nostri successori, alle future generazioni, un paese più sostenibile, più efficiente e più giusto in cui vivere. Per il PNRR italiano, che è una parte del Next Generation EU, l'Italia ha a disposizione 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 in sovvenzioni, mentre 122,6 in prestiti. Con queste cifre a livello assoluto, l'Italia si pone al primo posto come beneficiario all'interno del progetto del Next Generation EU. Ora, una volta presentato questo piano, che come abbiamo visto è stato fatto il 30 aprile scorso, la Commissione Europea avrà due mesi di tempo per valutare questo piano e approvarlo o meno. Nel caso in cui la Commissione Europea dovesse approvare questo piano, allora i finanziamenti verso l'Italia dovranno iniziare intorno a luglio o agosto 2020 e tutte le risorse economiche dovranno essere spese da parte dell'Italia entro il 2026, quindi in un arco di tempo di 5 anni e mezzo. Ma dove verranno spesi questi soldi? Lo vediamo subito. Il piano si divide in sei missioni, di seguito elencate. Missione 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Sostiene la transizione digitale del Paese nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, all'obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio con reti a bando ultra larga, migliorare la competitività delle filiere industriali e agevolare l'internazionalizzazione delle imprese. Investe inoltre sul rilancio di due settori che caratterizzano l'Italia, il turismo e la cultura. Missione 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica. È volta a realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia per rendere il sistema sostenibile e garantire la sua competitività. Comprende interventi per l'agricoltura sostenibile e per migliorare la capacità di gestione dei rifiuti, programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali della transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Prevede inoltre azioni per l'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato e iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, per salvaguardare e promuovere la biodiversità del territorio e per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche. Missione 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile. Si pone l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al mezzogiorno. Potenzia i servizi di trasporto merci secondo una logica intermodale in relazione al sistema degli aeroporti. Promuove l'ottimizzazione e la digitalizzazione del traffico aereo. Punta a garantire l'interoperabilità delle piattaforme logistiche nazionali per le reti e dei porti. Missione 4. Istruzione e ricerca. Punta a colmare la carenza strutturale, quantitative e qualitative dell'offerta di servizi di istruzione nel nostro paese in tutto il ciclo formativo. Prevede l'aumento dell'offerta di posti degli asili nido, favorisce l'accesso all'università, rafforza gli strumenti di orientamento e riforma di reclutamento e la formazione degli insegnanti. Include anche un significativo rafforzamento dei sistemi di ricerca di base applicata e nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico per innalzare il potenziale di crescita. Missione 5. Coesione e inclusione. Investe nelle infrastrutture sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l'imprenditoria femminile. Migliore il sistema di protezione per le situazioni di fragilità sociale ed economica, per le famiglie, per la genitorialità. Promuove inoltre il ruolo dello sport come fattore di inclusione. Un'attenzione specifica è riservata alla coesione territoriale, con rafforzamento delle zone economiche speciali e la strategia nazionale delle aree interne. Potenzia il servizio civile universale e promuove il ruolo del terzo settore nelle politiche pubbliche. Missione 6. Salute. È focalizzata su due obiettivi. Il rafforzamento della prevenzione dell'assistenza sul territorio con l'integrazione tra servizi sanitari e sociali e l'ammodernamento della dotazione tecnologica del Servizio Sanitario Nazionale. Potenzia il fascicolo sanitario elettronico e lo sviluppo della telemedicina. Sostiene le competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, oltre a promuovere la ricerca scientifica in ambito biomedico e sanitario. Quindi queste sono le missioni del PNRR italiano presentato alla Commissione Europea. Ora, prima di andare ad analizzare l'impatto economico del PNRR e alcune idee che mi sono fatto leggendolo, andiamo a rispondere a una vostra curiosità perché lo so, non vedete l'ora. È fatto meglio il PNRR di Draghi o quello di Conte di Gennaio? La risposta è che è migliore il PNRR di Draghi ma, Draghi ma, perché lo so come funzionate voi su internet, stoppate il video e senza finire di guardare il video commentate a sproposito. Quindi cerchiamo di guardare un po' le cose in prospettiva. Innanzitutto, come deve essere stipulato, come deve essere redatto il PNRR di un paese? Per creare questo programma non è stato sicuramente un libera tutti verso i politici che hanno potuto mettere quello che volevano all'interno del piano. In realtà c'è una forte direzione da parte della Commissione Europea che ha specificato come deve essere compilato il piano, quali devono essere le emissioni, addirittura l'imposto alcune percentuali che determinate emissioni devono avere, ad esempio quella climatica pari al 37% di tutti i soldi spesi all'interno del piano o quella sulla digitalizzazione pari al 20%. Inoltre sono state date delle linee guida ben precise per appunto stimolare la creazione di un piano nazionale di ripresa e resilienza coerente con tutte le altre nazioni e inoltre la Commissione Europea ha dato delle linee guida specifiche per ogni paese per poter compilare dei piani economici in linea con le difficoltà di ogni singolo paese. Quindi più che una effettiva libertà da parte di ogni singolo stato di compilare il proprio PNRR si è trattato più di unire i puntini, puntini dati proprio dalla Commissione Europea e quindi la libertà di azione non era poi così tanta. Inoltre come ho già fatto nel video in cui approfondivo il PNRR di Conte cerco di spezzare ulteriormente una lancia a suo favore e cioè che quel documento presentato a gennaio alla Unione Pubblica era essenzialmente una bozza e c'era scritto anche nel documento che era una bozza e che ulteriori dettagli, piani e analisi economiche sarebbero dovute essere fatte per poi presentare quel piano alla Commissione Europea. Quindi essenzialmente è anche un po' normale aspettarci che un documento ufficiale redatto da Draghi sia migliore rispetto a quello di Conte ma è normale uno è una bozza e uno è un documento ufficiale. Inoltre io ho letto di pari passo sia il PNRR di Conte che quello di Draghi e vi posso assicurare che sono molto simili. Essenzialmente quello di Draghi è un approfondimento di quello di Conte, ve lo posso assicurare. Quello di Draghi ha dei dettagli maggiori, è strutturato meglio, ha anche una maggiore descrizione delle politiche che si vogliono adottare, ha anche delle analisi economiche e anche tutta la fase di monitoraggio come la vogliono portare avanti. Tutte cose che all'interno del piano di Conte non c'erano ma con questo non è detto che non ci sarebbero state. Quindi il PNRR di Draghi è un'evoluzione del PNRR di Conte e se vi fa schifo quello di Draghi allora vi farà necessariamente schifo anche quello di Conte perché è un'evoluzione, non lo so, prendetela come un Cell di Dragon Ball. È una cosa un po' diversa, è molto forte ma è comunque la stessa persona sostanzialmente. Quindi tolta questa curiosità il PNRR è buono? È un buon piano di investimento? Allora se dovessimo paragonare questo PNRR a tutti i DEF o le leggi di bilancio che ci hanno abituato i politici in tutti questi anni beh sicuramente è una ventata d'aria fresca e non sto parlando di importo di risorse economiche ma proprio di linguaggio e di politiche che si vogliono adottare. Innanzitutto la gran parte delle risorse che verranno spese all'interno del PNRR verranno spese in investimenti e non in trasferimenti ai cittadini che molto spesso si prefiguravano come delle praticamente mance elettorali. All'interno del PNRR ci sono delle buone analisi per quanto riguarda i motivi per cui l'Italia non è capace attualmente di poter crescere e competere con le altre nazioni europee. In questo senso si è citato il problema della produttività delle imprese, la grandezza delle imprese è troppo piccola attualmente per poter competere in questo contesto economico, si è parlato della scarsi investimenti in innovazione e digitalizzazione delle imprese, si è parlato di capitale umano, quante volte abbiamo parlato su questo canale di capitale umano, si è parlato dei problemi del mercato del lavoro, di fisco, della riforma del fisco, quanto ce ne sarebbe bisogno di questa cosa, si è parlato di gender gap e ad esempio non si è parlato di quanto l'euro abbia impattato la crescita economica del paese e quello è un documento ufficiale. Insomma tutte analisi e tutte basi su cui costruire delle politiche economiche molto solide e molto convincenti, su questo si può essere estremamente d'accordo. Oltre a tutte queste missioni che abbiamo visto il PNRR si concentra anche soprattutto su tre tipi di riforme, cioè la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia e la resemplificazione e la riforma della concorrenza. Secondo il PNRR, e anche su questo si può condividere, queste tre riforme possono dare un grande impulso alla crescita economica del paese e potete vedere qui gli impatti di queste riforme che possono dare al PIL italiano. Quindi queste riforme che secondo il governo dovrebbero essere terminate entro quest'anno nella maggior parte dei casi sono essenzialmente un punto di partenza, possono dare un grande impulso affinché tutti gli investimenti del PNRR possono essere applicati in maniera veloce, efficiente e che abbiano effettivamente un impatto economico e duraturo all'interno dell'economia italiana. E quindi si sono individuate le giuste cause di decrescita economica del paese, si sono individuati anche molti investimenti giusti da fare per poter permettere al paese di ricrescere e quindi il piano è perfetto? No, il piano sicuramente non è perfetto a diversi punti di criticità come ad esempio si sarebbe gradito un maggior dettaglio nella descrizione e implementazione di determinate politiche in quanto messe così è difficile valutare quanto impatto potranno avere all'interno dell'economia italiana, una formulazione migliore delle politiche attive oppure ancora una maggiore implementazione del piano Amaldi per quanto riguarda la ricerca di base e l'innovazione delle imprese. Manca ad esempio un capitolo riguardante l'inclusione e l'integrazione delle persone straniere all'interno dell'economia nazionale oppure ancora non si parla della riforma delle concessioni balneari oppure ancora si è diminuito l'alloggio per gli studenti, insomma le critiche si possono fare come ancora quello di non aver dato un'impronta più forte alla sostenibilità del sistema pensionistico. Oppure se si va a guardare gli effetti del PNRR sulla crescita economica del Sud si può notare come sicuramente nei prossimi cinque anni la questione meridionale non sarà risolta vedendo appunto i tassi di crescita del PIL. Quindi si possono fare tutte le critiche di questo mondo ma secondo il mio modesto parere l'obiettivo del PNRR non è quello di limare o perfezionare alcuni elementi dell'economia italiana. Quindi è anche normale che non ci stia dentro tutto ed è anche normale che tutte le parti sociali stanno dicendo eh ma noi meritavamo più soldi. Alla fine tutti dicono così e quindi è ovvio che tutti rimangono scontenti. In realtà secondo me l'obiettivo di questo PNRR appunto non è quello di perfezionare un'economia in quanto l'economia italiana ha molteplici problemi. L'obiettivo del PNRR è quello di rivoluzionare un intero sistema economico. E in questo senso se la politica riuscirà ad adottare in maniera integrale tutti gli obiettivi del PNRR allora l'economia italiana da qui a cinque anni sarà effettivamente ribaltata. E questo è un risultato che sicuramente non è da sottovalutare. Ora il piano è molto ambizioso anzi secondo me anche troppo. Infatti di tutte le riforme e gli investimenti che sono presenti all'interno del piano io ne prenderei tre o quattro. Innanzitutto la riforma fiscale. Siamo in un paese per cui se io ottengo una promozione al lavoro molte volte sono costretto a rifiutarla questa promozione perché poi andando a pagare più tasse sul mio reddito andrò a finire a guadagnare molto meno rispetto a quelle che guadagnavo prima con una posizione che mi dava molte meno responsabilità. Cioè capite l'assurdità del sistema fiscale italiano? Successivamente sicuramente un altro obiettivo importante è quello di efficientare e digitalizzare la pubblica amministrazione e metterla al servizio finalmente dei cittadini e delle imprese e risolvere due problemi molto importanti e cioè la partecipazione al mondo del lavoro delle donne si è visto come se la percentuale di occupazione delle donne arrivasse al 60% adesso è poco meno del 50% il PIL potrebbe crescere di ben 7 punti percentuali e il 60% è una percentuale abbastanza scarsa nei confronti dell'Unione Europea e inoltre un'altra questione fondamentale è ovviamente la questione meridionale perché e qui mi danno ragione anche le analisi economiche l'Italia con un sud messo in questo stato non può andare da nessuna parte e quindi sarebbe un grandissimo grandissimo risultato se finalmente si iniziasse a risolvere definitivamente la questione meridionale ovviamente non pretendo di risolverla in 5 anni ma dare un ottimo impulso che poi permetta nell'arco di 10-20 anni di avere colmato gran parte di questo gap ma voi mi potreste dire eh vabbè di tutto questo piano solo 4 componenti in realtà per realizzare questi 4 obiettivi bisogna implementare numerose politiche economiche che potrebbero creare degli effetti spillover riguardo a tutte le altre tematiche dall'economia verde alle occupazioni dei giovani alle produttività delle imprese e risolvere questi problemi secondo me darebbe anche un ottimo impulso alla politica sarebbe un ottimo segnale che ci potrebbe dire di quanto la politica sia maturata rispetto al passato insomma banalizzando raggiungere questi 4 obiettivi sarebbe una vera e propria cartina di tornasole per l'economia italiana il futuro del paese queste sono secondo il governo le attività economiche che saranno più avvantaggiate dal pnr ovviamente il settore immobiliare quello edire saranno boostati se come si direbbe qui su internet dal super bonus e quindi da tutta la ristrutturazione degli edifici come ad esempio quello che sta avvenendo qui sopra di me che da due mesi mi rompe le scatole non so se uscirà oggi sto ancora registrando a causa di questi di queste persone che stanno ristrutturando sopra di me sto impazzendo e queste invece sono le prospettive di crescita del pnr per il pil e bisogna considerare che questi sono dei numeri che sono addizionali alla crescita tendenziale del paese quindi se senza il pnr il paese crescerà nei prossimi cinque anni del 2 per cento a questo 2 per cento bisogna aggiungere la questi numeri del pnr che sono una componente aggiuntiva al pil tutte queste statistiche questi previsioni bisogna prenderle con le pinze in quanto già è difficile fare una previsione a un anno in questo contesto economico molto mutevole figuriamoci fare delle previsioni economiche su un progetto così grande così rivoluzionario in un arco di tempo di sei anni ma detto ciò secondo me anche un po' superficiale soffermarsi sui numeri e fare dei paragoni rispetto al pnr di conte rispetto a quelli delle altre nazioni eccetera eccetera perché il problema dell'italia non è mai stato quello dei soldi ma è stato tutt'altro e per spiegarvelo vi racconto un aneddoto siete un ingegnere della seconda guerra mondiale e dovete rinforzare degli aerei ovviamente però non potete rinforzare tutte le parti dell'aereo in quanto altrimenti l'aereo risulterebbe molto meno efficace nel volo durante le fasi di battaglia e quindi dovete scegliere parti precise da dover rinforzare ovviamente cosa fate andate a vedere quali sono i danni riportati dagli aerei tornati a terra dopo una battaglia e vi trovate davanti questo tipo di pattern le parti evidenziate sono quelle parti che hanno ricevuto maggiori danni dagli aerei ritornati dopo una battaglia quindi quali sono le parti che rinforzerete dell'aereo i politici italiani sbagliando risponderebbero le parti evidenziate se infatti gli aerei sono tornati da una battaglia hanno ricevuto quei danni significa che quei danni non erano essenziali e vitali per l'aereo e quindi tutti gli aerei che non sono tornati hanno subito dei danni alle parti non evidenziate quindi da dover rinforzare vi ho raccontato questo aneddoto che è anche molto utile per spiegare un concetto di statistica per sottolineare appunto che durante tutti questi anni il problema dell'economia italiana non sono mai stati soldi ma sono state le implementazioni delle politiche da parte proprio dei politici della pubblica amministrazione quindi più che lamentarmi dell'importo di tutte le politiche economiche starei ben attento a controllare che tutte queste politiche verranno adottate nella maniera più efficiente ed efficace possibile infatti in tutto ciò l'aspetto più critico è proprio quello del monitoraggio dei finanziamenti anche se la mia opinione ve l'ho già dato in un vecchio video in cui vi dicevo che no i soldi non verranno sprecati perché c'è il meccanismo europeo per cui i progetti prima verranno realizzati e poi ci sarà l'erogazione dei soldi inoltre un altro elemento importante il fatto di dover appunto monitorare tutte le politiche economiche non solo da un punto di vista di prosecuzione dei lavori ma anche dell'impatto all'interno dell'economia e se questa politica non dovesse dare gli effetti sperati è facoltà dello stato di smettere questa politica e investire i soldi prima pensati per quella politica in altri progetti e questo è un fattore fondamentale che ad esempio nella politica italiana non si è mai fatto basti guardare ad esempio quota 100 oppure al reddito di cittadinanza che sono sicuramente la prima da abolire la seconda da riformare per renderla più efficace all'interno dell'economia cose che ovviamente non sono state ancora fatte e quindi è fondamentale proprio un cambio di classe politica sostanzialmente che forse l'aspetto più critico di tutto ciò e che all'interno del pnrr non è giustificato abbastanza questa riconversione della politica ecco lì mi preoccuperei particolarmente come molto spesso si dice attualmente probabilmente questa è l'ultima possibilità per l'economia italiana di riagganciarsi al treno dell'economia mondiale ma non solo può essere anche l'ultima opportunità per l'italia di dimostrare all'unione europea che il paese è un paese affidabile su cui poter contare e su cui poter costruire un progetto europeo molto più largo e quindi rendere essenzialmente stabile questo next generation eu che finirà nel 2026 quindi magari pensare a delle prospettive di euro bond o comunque di piano e di piani fiscali di spesa comuni all'interno dell'unione europea in questo senso fondamentale è dimostrare che il paese italia sia un paese serio affidabile su cui ci si può contare senza fare spese inutili come ad esempio abbiamo detto quota 100 spero di non essermi dilungato troppo ma di essere stato anche abbastanza esaustivo e riassuntivo allo stesso tempo ci vediamo alla prossima puntata di whatsapp e colmi e ringrazio ovviamente gli abbonati per sostenermi in questo progetto novità in arrivo novità in arrivo novità in arrivo dagli ciao 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 Grazie a tutti.